Che bello, non hai fatto la grappa? Sì, però stai attento che è forte. Sì, sì, tranquillo, tanto quello su, tanto asciaggia... Volare Cantare Nel blu, dipinto di blu Felice di stare lass... Ma, nonno, sei sicuro di aver messo gli ingredienti giusti, sì? Certo che ne sono sicuro. Vinaccia, l'ho fermentata col mastro distillatore, l'LSD, l'alambicco e poi, infine, l'ho filtrata. Ah, ok, sì, sì, sì. No, aspetta, cosa? Tè, andiamo, il pony azzurro è arrivato!